Buongiorno a tutti, in questo video vi propongo una equazione esponenziale in due incognite abbastanza impegnativa. L'equazione è la seguente, quindi determinare tutte le coppie di numeri reali xy tali che 16 elevato alla x al quadrato più x più 16 elevato all'y quadro più y è uguale a 16 elevato alla x più y. Se volete chiaramente provare a risolverla per conto vostro, mettete in pausa il video perché sto per darvi la soluzione. La soluzione è contenuta tutta in questo foglio, quindi per chi vuole studiarsela autonomamente può semplicemente mettere in pausa il video e studiare la soluzione, altrimenti adesso ve la presenterò passo passo. Iniziamo dal primo passaggio che consiste nel dividere tutti i termini per la quantità 16 elevato alla x più y. Ovviamente dividendo il secondo membro per questa quantità si ottiene 1, negli altri due casi invece applicando le proprietà delle potenze si ottiene 16 alla x al quadrato meno y, perché x e x chiaramente si andranno a cancellare e più 16 elevato alla y al quadrato meno x uguale a 1. Fatto questo possiamo intanto trasformare il 16 in 2 alla quarta e quindi scrivere 2 alla 4 per x al quadrato meno y e 4 per y al quadrato meno x e poi considerare queste due quantità e assegnarle a due variabili ausiliari aggiuntive a e b e quindi riscrivere questa equazione come un sistema in cui appunto la prima quantità è uguale ad a, la seconda che abbiamo estratto dall'equazione è uguale a b e chiaramente la somma deve essere uguale a 1. Chiaramente noi abbiamo introdotto due quantità ausiliari ma dato che c'è questa relazione tra le due, al posto di b possiamo immaginare di avere 1 meno a. Allora immaginando questo il prossimo passaggio sarà quello di prendere il logaritmo in base 2 di entrambi i membri dell'equazione. Quindi a destra rimarrà 4 per x al quadrato meno y e a sinistra comparrà chiaramente il logaritmo in base 2 di a. Nell'altro caso invece 4 per y al quadrato meno x è uguale al logaritmo in base 2, non scriviamo b ma scriviamo direttamente 1 meno a per avere un'incognita in meno. Adesso questo sistema possiamo eseguire un'addizione cioè sommare le due equazioni. Sommando le due equazioni si ottiene questa equazione che in sostanza equivale al sistema in cui appunto abbiamo sommato i primi membri e i secondi membri e otteniamo questo. Adesso ricordandoci la proprietà fondamentale dei logaritmi questa somma di logaritmi possiamo scriverla come un unico logaritmo del prodotto degli argomenti. Quindi otteniamo sostanzialmente questa equazione. Questa equazione possiamo scriverla in forma implicita quindi portare il secondo membro a primo membro e al tempo stesso dividere per 4. Beh se operiamo queste due trasformazioni ci accorgiamo che considerando x e y soltanto come incognite questa è l'equazione di una circonferenza il cui centro è facilmente calcolabile a coordinate un mezzo un mezzo e il raggio invece è la radice quadrata della somma dei quadrati delle coordinate del centro meno il termine noto che in questo caso dipende dalla variabile a. Allora affinché questa circonferenza sia effettivamente una circonferenza dobbiamo imporre che il raggio esista cioè che il radicando di questa espressione sia maggiore o uguale a 0. Quindi un quarto più un quarto un mezzo più un quarto del logaritmo in base 2 di a per 1 meno a deve essere maggiore o uguale a 0. Allora questa condizione non è altro che una disequazione logaritmica nell'incognita a che andiamo appunto a risolvere con passaggi abbastanza scontati che ci portano a una disequazione questa volta algebrica a per 1 meno a maggiore o uguale di un quarto la cui soluzione unica soluzione è un mezzo. Quindi affinché questo raggio esista l'unica possibilità è che a sia uguale a un mezzo e quando a è uguale a un mezzo chiaramente vuol dire che siamo nel caso limite cioè nel caso in cui il raggio è proprio uguale a 0 come si può verificare sostituendo a posto di a il valore un mezzo. Ma cosa vuol dire che il raggio è uguale a 0? Vuol dire che la circonferenza è una circonferenza del genere e una circonferenza del genere di raggio 0 sostanzialmente contiene solo il suo centro. È costituita soltanto dal suo centro di coordinate un mezzo e un mezzo. Quindi questi due valori per x e per y saranno gli unici valori che soddisfano quindi l'equazione iniziale che è appunto equivalente all'ultima che abbiamo considerato. Quindi la soluzione di questa equazione è la coppia un mezzo, un mezzo. Allora c'è da dire che questo video è stato ispirato da un video in inglese che vi riporto in questa schermata. Questo video è del canale Mind Your Decisions, un canale americano. Allora questo video presenta un problema praticamente identico però lo risolve in una maniera totalmente diversa. Quindi io vi invito anche ad andare a guardare questo video per confrontare i due metodi di risoluzione dello stesso problema. Con questo vi ringrazio e vi lascio come al solito con una citazione, questa volta dal grande matematico italiano Giuseppe Peano, che appunto dice chi enuncia delle conseguenze che non sono contenute nelle premesse potrà fare della poesia ma non della matematica. Grazie per l'attenzione e vi saluto al prossimo video.